buon di buona gente sono luigi in arte lusio anzi professor lusio e benvenuti a questa nuova video lezione diamo ufficialmente inizio alla storia delle six delle sei mogli di enrico ottavo e partiamo ovviamente dalla numero uno in tutti i sensi numero uno non solo perché è venuta per prima ma la numero uno perché in quanto ad avere adempiuto a ruoli come regina eccetera personalmente penso sia obiettivamente difficile da battere e presto capirete anche come mai bene bene prepariamoci perché questa sarà una vicenda lunghissima piena di avvenimenti importanti al meno per tutta la prima parte ma anche la seconda parte è degna di nota come vedrete nel corso di tutta questa miniserie infatti penso che con questi primi due video questo dedicato a caterina d'arragona e il prossimo dedicato ad anna bolena ci spenderò molte più parole e richiederà un minutaggio molto più ampio bene quindi prepariamoci e iniziamo di gran carriera non voglio perdere altro tempo la storia questa storia ha inizio nel 1485 ma non in inghilterra lontano dall'inghilterra dove si era appena conclusa la lunga guerra dinastica delle due rose e sul trono si era installato enrico settimo tudor sovrano famoso per essere una sorta di zio paperone del del medioevo ecco di un taccagno come pochi ecco bene no non siamo in inghilterra non ancora siamo in spagna nella spagna che i re cattolici ferdinando e isabella stavano proprio in quell'epoca riconquistando palmo a palmo unendo il ramo castigliano e quello aragonese e in seguito strappando l'estremo ovest ai musulmani che avevano reso quella terra un centro culturale e scientifico all'avanguardia anche se questa è una cosa che secondo me a molti non piace mai sentire però è così allora in questo scenario di sovvertimento di assestamenti socio politici geografici in mezzo ai campi di battaglia nacque catalina figlia minore di isabella di castiglia e di ferdinando d'aragona regina guerriera lei re statista lui catalina sarebbe poi diventata caterina regina d'inghilterra un titolo che avrebbe conservato e difeso con orgoglio e regalità soprattutto per tutta la sua vita cresciuta fra le mura di palazzi moreschi frutto dell'ingegno architettonico dei musulmani andate a visitare i palazzi della lambra ragazzi prego sono qualcosa di spettacolare quindi ed educata secondo i più saldi principi cattolici caterina ricevette l'educazione che ben sia di si si addiceva ad una futura regina fu la madre a volere che anche le sue figlie femmine ricevessero quell'educazione culturale che in genere veniva riservata unicamente agli eredi maschi questo in vista dei futuri compiti che si sarebbero trovate tutte quante le figlie di spagna chiamiamole così si sarebbero trovate tutte quante ad affrontare come future consorti di sovrani da questo punto di vista la politica matrimoniale di isabella di castiglia ha precorso di tre secoli quella di maria teresa d'austria e proprio in virtù di questa educazione caterina al di là dell'attaccamento alla tradizione cattolica fu per tutta la sua vita un esempio di principessa e di sovrana illuminata una grande e soprattutto una grande stimatrice del pensiero riformista di erasmo da rotterdam il famoso filosofo che tutti quanti conoscerete sicuramente per il suo scritto elogio della follia ebbene il quale ventilava da una ventilava una riforma all'interno della chiesa cattolica anche per prevenire lo scisma che stava avvenendo in quell'epoca con la riforma protestante di martin lutero tenete bene a mente la questione dello scisma perché come molti di voi sapranno giocherà un ruolo importantissimo nelle future vicende di caterina e soprattutto in quelle di anna bolena successivamente allora per tornare alla nostra storia attraverso i matrimoni dei loro figli e delle loro figlie ferdinando e isabella crearono legami di parentela con l'intera europa e anche la giovanissima caterina sarebbe stato un tassello importante in quel mosaico che stava andando formandosi la strada del destino della principessa spagnola l'avrebbe condotta nell'inghilterra di enrico settimo sovrano che necessitava di alleati potenti per consolidare il suo potere potere sul quale lui praticamente aveva installato la sua dinastia da da pochi anni se paragonato a tante altre casate d'europa ebbene enrico settimo offrì ai sovrani cattolici la corona di regina degli inglesi per la loro figlia attraverso un matrimonio tra lei e il suo primo genito il principe arturo giunse quindi per caterina il tempo di lasciare l'amatissima madre e l'ammirato padre e le calde terre della spagna per la sua nuova vita nella fredda inghilterra giunse nell'ottobre del 1501 il primo incontro dei due giovanissimi promessi sposi 15 anni lui 17 lei avvenne in un modo assai romanzesco desideroso di vedere la merce acquistata enrico settimo andò personalmente assieme al figlio a vedere la sposa appena arrivata che però secondo la tradizione castigliana avrebbe dovuto mantenere il volto coperto da un velo fino al matrimonio la proposta riuscì sgradita al diffidente e ansioso re tudor che ordinò alla giovane dimostrare il suo volto facendo intendere in maniera nemmeno tanto velata che lì in inghilterra le sue tradizioni non avevano alcuna importanza praticamente ciccia abbi pazienza non sei più una principessa spagnola sei una principessa inglese adeguati quindi con una diplomazia che sua madre avrebbe senz'altro apprezzato caterina eseguì gli ordini del futuro suocero e tra lo sconcerto delle sue dame si tolse il velo sia enrico settimo che arturo rimasero ammaliati dalla bellezza della giovane principessa dal suo ovale bianco e candido dai suoi capelli biondo ramati e dagli occhi chiari caratteristiche che denotavano le sue lontane discendenze inglesi essendo la sua bis bisnonna filippa di lancaster principessa appartenente alla vecchia dinastia regnante inglese dei lancaster appunto che a suo tempo andò sposa al re del portogallo curiosità time ne approfitto adesso tutte le sei mogli di enrico ottavo e lo stesso enrico hanno un antenato in comune edoardo primo d'inghilterra vissuto nella seconda metà del 200 quindi tutti i protagonisti di questa storia hanno una parentela più o meno lontana tra loro però questo è un dettaglio che può sembrare di poco conto ma è molto importante perché sarebbe stata proprio questa discendenza regale a consentire ad anna bolena a jane seymour a catherine howard e a catherine par di sposare il re d'inghilterra a dispetto del loro essere delle semplici nobile donne avrebbe sarebbe valso la loro discendenza da un re ad inghilterra del 200 bene per tornare di nuovo alla storia di caterina così come era riuscita a far breccia nell'interesse del futuro suocero e del futuro marito ben presto caterina sarebbe riuscita anche a far breccia nel cuore del popolo inglese che l'avrebbe sempre amata per il resto della sua vita ma mentre caterina era bella e dall'aspetto sano il principe arturo in confronto per contrario era era magrissimo troppo piccolo per la sua età praticamente era sottosviluppato potremmo dire e la sua salute era cagionevole solo con un grande sforzo di immaginazione si poteva pensare a quello scricciolo come il futuro re d'inghilterra anzi il fatto che si chiamasse arturo cioè arthur artù un rimando sicuro al al re al famosissimo re artù delle leggende inglesi ebbene sembrava quasi uno scherzo un brutto scherzo della sorte che per un nome tanto grande fosse stato dato ad un principe così piccolo completamente diverso da arturo era il suo fratello minore enrico che all'epoca aveva solo dieci anni ma era già bello come un cherubino e prometteva di crescere ancora più bello e aitante al suo confronto arturo sfigurava il matrimonio tra caterina e arturo venne celebrato il 14 novembre del 1501 quella stessa notte i due fanciulli si operarono nel talamo nuziale per la consumazione del matrimonio ora si apre qui una parentesi importante e ci si inizia a porre la fatidica domanda caterina e arturo consumarono il matrimonio oppure no non c'è niente di documentato o di ufficiale risalente a quel periodo all'epoca va detto che non si dava per scontato che gli sposi consumassero il matrimonio già la prima notte di nozze che che ne dicano quelli che pensano che visto che ci si sposava 12 13 anni subito zazza si consumava no non funzionava così anzi certe volte a causa della giovane età e delle condizioni di salute era addirittura sconsigliato che i che i giovani sposi consumassero il matrimonio poteva dipendere da vari fattori del tipo nel caso la la sposa non fosse diciamo fisicamente sviluppata o non fosse un eventuale sviluppo fisico nemmeno da parte dello sposo oppure si tende tentava di non si temeva che la giovane età degli sposi avrebbe potuto diciamo come posso dire i giovani sposi inesperti avrebbero potuto talmente apprezzare le gioie del talamo che non si sarebbero dati pace avrebbero continuato a fare diciamo a conoscersi biblicamente in continuazione e ciò per molti all'epoca si riteneva nocivo per la salute uno dei fratelli di caterina si diceva appunto che fosse morto a causa dei troppi eccessi d'amore con la sua amata sposa per cui non sappiamo con certezza se arturo e caterina si siano conosciuti carnalmente o se vista la poca prestanza dello sposo abbiano trascorso la prima notte castamente e d'altronde non si sentì nemmeno l'esigenza da parte dei reali genitori degli sposi di approfondire la questione si dava per scontato che i due avrebbero avuto tutto il tempo di questo mondo per consumare solo vent'anni dopo ciò che avvenne quella determinata notte avrebbe acquisito un'importanza capitale per il destino di caterina e dell'inghilterra ma ci ritorneremo presto per mettere in pratica la sua attitudine al governo enrico settimo mandò il figlio e la giovane sposa a liudlov nel galles dove il principe ereditario avrebbe dovuto iniziare a esercitarsi a fare il re e al tempo stesso a farsi conoscere dal suo popolo praticamente doveva spratichirsi purtroppo il trasferimento di arturo e caterina coincise con un'ondata di febbre del sudore una tremenda malattia importata dall'esercito francese che enrico settimo condusse guidò quando prese il potere nella battaglia di bosworth field quando lui sconfisse riccardo terzo d'inghilterra e abbattendo il ramo york della famiglia inglese e instaurando quella dei tudor ebbene i due giovani vennero colpiti da questa febbre del sudore e ebbero due destini diversi caterina sopravvisse e arturo invece morì la prematura morte del primo genito di Enrico VII portò a vari importanti stravolgimenti il primo fu la designazione del secondo genito Enrico che all'epoca era stato preparato per una eventuale carriera ecclesiastica venne designato come nuovo futuro erede al trono e il secondo importante stravolgimento fu il complicarsi della situazione di caterina giovanissima vedova avrebbe dovuto tecnicamente far ritorno in spagna e tornare ad essere la pedina finalizzata alla costruzione di alleanze dei suoi genitori però ciò a questa eventualità avrebbe comportato la restituzione della dote alla casa agli spagnoli ed Enrico VII era era troppo avaro ed era troppo dirchio per permettere che ciò avvenisse impoverendo le casse dello stato inglese fu così che caterina si ritrovò bloccata in una prigione di problemi economici e diplomatici per quasi sette anni l'unica cosa che poté fare per controbattere fu quello di essere un continuo memento per la famiglia reale inglese non smettendo mai di dire silenziosamente guardate che io sono qui e non vi permetterò di scordarvi della mia presenza e in questo lasso di tempo perse il suo unico sostegno sua madre Isabella di Castiglia che morì nel 1504 però in compenso guadagnò il sostegno del giovanissimo Enrico il ragazzo che anzi il bambino che era sempre stato ignorato per tutta la prima parte della sua fanciullezza ed era assurdo così di punto in bianco ad un ruolo di prestigio per il quale non era mai stato davvero preparato aveva di base caratterialmente una una indole romantica e cavalleresca atteggiamento che avrebbe mantenuto bene o male per tutta la vita come vedremo in seguito e ai suoi occhi e se ai suoi occhi catterina rappresentava la povera principessa imprigionata nella torre costretta a vendere i suoi stessi i suoi stessi beni materiali per mantenere per comprarsi da mangiare a bruciare brandelli dei suoi vecchi abiti per fare per alimentare il fuoco del camino nelle notti d'inverno ebbene se catterina era la la povera principessa sventurata lui si sentiva come il prode cavaliere pronto a salvarla e questo avvicinarsi dei due avvicinamento forse anche un po pilotato da catterina che era la più grande dei due avendo sette anni di più e una maturità molto più formata di quella dell'ancora giovine enrico ebbene questo avrebbe portato a prendere in considerazione un'ulteriore unione matrimoniale tra la spagna e l'inghilterra alla fine si giunse finalmente alla risoluzione del problema cosa ne facciamo di catterina d'aragona dichiarata e probabilmente accertata la virginità di catterina il papa concesse la dispensa necessaria al matrimonio tra enrico e la cognata che secondo la legge era per certi versi sua sorella essendo la vedova di suo fratello ma i due dovettero attendere la morte del troppo tirannico enrico settimo nel 1509 prima di poter convolare a nozze ottenendo ciascuno ciò che voleva enrico il coronamento del suo sogno d'amore ad o del suo sogno d'amore adolescenziale e catterina la sua posizione di regina d'inghilterra per la quale si era preparata per anni e dopo dire che la mattina dopo la prima notte di nozze enrico ottavo si vantò di aver trovato la moglie ancora intatta per il re diciottenne e per la regina ventiquattrenne fu l'inizio di un regno all'insegna dell'età dell'oro amati dal loro popolo apprezzati dal mondo culturale dell'inghilterra dell'epoca additati come il perfetto esempio dei sovrani ideali purtroppo tra gli impegni di un monarca la guerra riveste un ruolo non certo indifferente in quel tempo a giostrarsi tra conflitti e alleanze le grandi potenze europee protagoniste erano oltre l'inghilterra la spagna il sacro romano impero germanico che poi si sarebbero uniti quando a governare le due casate ci sarebbe sarebbe ci sarebbe stato carlo quinto nipote di caterina e la francia governata da francesco primo dal 1515 con una moglie spagnola era ovvio che enrico propendesse per un'alleanza con la spagna e scendesse in campo contro la francia che premeva sui vari fronti compreso anche quello italiano per estendere il suo territorio risultando una minaccia per buona parte dell'europa quando nel 1513 enrico partì per combattere in francia ed arginare l'espansione dei sovrani francesi fu caterina in qualità di reggente a gestire gli affari di governo e a mostrare la sua lungimiranza e la sua propensione al comando quello per cui era stata educata fin da piccola fu proprio durante la sua reggenza che giacomo iv re di scozia la scozia era l'eterna l'eterna rivale dell'inghilterra attaccò i loro confini al nord volendo approfittare dell'assenza di enrico ottavo per diciamo per estendere il dominio della scozia anche sull'inghilterra ma caterina non si perse d'animo anzi si comportò come si sarebbe comportata sua madre organizzò l'esercito e lo incoraggiò a difendere la loro patria e nella battaglia di floddingfield gli inglesi sconfissero gli scozzesi e caterina inviò al marito ancora in francia la camicia insanguinata di giacomo iv di scozia morto in battaglia il comportamento ottenuto durante la reggenza consolidò definitivamente la posizione di caterina e l'amore degli inglesi per la loro regina secondo alcuni storici però questa impresa eroica di caterina gettò gettò un'ombra sul suo rapporto con enrico il quale non avendo fatto granché nella sua campagna francese si sentì abbastanza sminuito dal fatto che sua moglie fosse riuscita a fare più di lui in battaglia ma per il momento seppure c'erano dei contrasti non erano talmente grandi da intaccare la felicità della loro unione come ho detto erano dei sovrani molto erano sovrani giovani erano i più apprezzati proprio in quell'epoca enrico ottenne dal papa il titolo di difensor fidei difensore della fede titolo che poi sarebbe risultato abbastanza incoerente con quanto avrebbe fatto enrico in seguito ma ci arriveremo quindi mancava ormai solo un figlio per consolidare quella che sembrava una bella fiaba e il primo gennaio del 1511 infatti due anni dopo un anno e mezzo dopo la loro unione era nato un bambino un bel maschietto subito battezzato enrico come il padre e come il nonno ma dopo poche settimane il bambino morì vittima della moria che non risparmiava molti bambini durante la primissima infanzia lasciando nel cuore dei genitori un dolore lancinante ma non così forte da annientare le speranze degli ancora giovani sovrani lo stesso enrico pur con le lacrime agli occhi disse che in fondo lui e la regina erano ancora giovani avrebbero sicuramente avuto dei figli forti e sani e ovviamente ha sottinteso che quei figli fossero per lo più maschi sottinteso infatti il 18 febbraio del 1516 nacque maria una bambina bella e sana che si impose tenacemente alla vita con la sua salute invidiabile donando speranza ai genitori sicuri che il prossimo figlio sarebbe stato un maschio altrettanto forte bello e sano purtroppo figli ne vennero di ambo i sessi ma tutti nati morti o morti pochi giorni dopo la nascita o abortiti e col trascorrere degli anni la speranza di veder venire alla luce il tanto sospirato erede maschio si fece sempre più debole fino ad arrivare al momento in cui con caterina che superava l'età fertile si annullarono definitivamente tutte le speranze se dobbiamo cercare l'inizio della fine dell'amore di enrico ottavo per l'amata moglie perché ci fu sempre nella vita del passionale ed emotivo re un momento in cui sostituiva l'amore e l'affetto che provava verso amici e mogli con indifferenza e odio ebbene se dobbiamo cercare l'inizio della fine di questo amore possiamo trovarlo nascosto in mezzo a questa sequela infinita di gravidanze terminate male ma un erede c'era anche se di sesso femminile maria che cresceva in bellezza e intelligenza in inghilterra non vigeva la legge salica quindi una donna poteva legalmente salire al trono in qualità di regina ma nonostante ciò si riteneva si riteneva che una donna fosse incapace a governare autonomamente e anche se maria fosse salita al trono a governare sarebbe stato sicuramente un suo eventuale consorte che visto il lignaggio della fanciulla poteva essere solo e soltanto un principe di un regno straniero ed Enrico di un regno straniero o minimo o minimo uno degli ultimi discendenti dell'ormai decaduta casata di York la casata reale che era stata messa da parte con la conquista del regno da parte di Enrico VII Tudor per Enrico cresciuto con i racconti della sanguinosa guerra di dinastia che aveva sconvolto l'Inghilterra prima dell'ascesa al trono di suo padre ognuna di queste eventualità era da rigettare fermamente come anche il dover affidare la sovranità dell'Inghilterra ad un re straniero ad un principe straniero e in più sapendo che il primo e ultimo esempio di una regina inglese quella di Matilde d'Inghilterra che aveva regnato nel 1141 ebbene coincideva ricordava un periodo di guerra civile Enrico era firmamente deciso a non lasciare che fosse sua figlia a salire al trono avrebbe avuto un figlio maschio a qualsiasi costo solo così l'Inghilterra avrebbe avuto un futuro sicuro e prospero un figlio maschio alla fine lo ebbe nel 1519 ma non da Caterina bensì da Bessie Blount la prima delle sole tre amanti ufficiali che Enrico VIII ebbe nella sua vita ironia della sorte Enrico VIII è l'unico esempio di re che ebbe più mogli che amanti il bambino che al bambino venne dato il nome di Henry Fitzroy Fitzroy che significa figlio di re Enrico gli diede un titolo nobiliare e un'educazione degna di un principe e molti pensavano che sarebbe stato lui il prossimo re d'Inghilterra e forse anche Enrico VIII considerò seriamente questa eventualità ma il fatto che fosse illegittimo un bastardo non spazzava via i timori di una sicura guerra civile addirittura per sopperire a questo problema si era addirittura pensato di chiedere una dispensa papale che consentisse ad un matrimonio proprio tra Henry Fitzroy e la principessa Maria praticamente avrebbe voluto legalizzare un incesto vero e proprio va bene a Cersei a Jaime Lannister questo elemento piace vabbè ma per fortuna di questo questo unione non se ne fece nulla grazie a dio direi comunque allora un figlio quindi quindi ok scusate ho perso il filo c'è da dire che come dicevo che il fatto che proprio il fatto che Henry Fitzroy fosse un figlio illegittimo non non spazzava via i timori di una sicura guerra civile molte erano le famiglie imparentate con re che potevano aspirare legittimamente al trono come un ultimo ramo che ha detto degli York e dei plantageneti e molte di queste famiglie come vedremo non sopravvissero al regno di Enrico VIII ma per il momento erano ancora gli anni d'oro del suo governo e l'unico neo rimaneva la questione del figlio maschio legittimo comunque il rapporto tra Enrico e Caterina rimase quello di una coppia di coniugi felicemente uniti da quasi un ventennio fino a quando nel 1526 gli occhi di Enrico si posarono su una giovane damigella del seguito di sua moglie una damigella affascinante pur non essendo bella secondo i canoni dell'epoca ma dalla bella parlantina molto gioiosa e ridente e dall'atteggiamento molto molto conturbante questa dama si chiamava Anne Boleyn Anna Bolena fu così che ebbe inizio uno degli eventi più conosciuti che sconvolsero l'apparato dell'Inghilterra e che costrinse Caterina d'Aragona a combattere nuovamente per mantenere il suo status e il suo titolo di regina e questa volta la posta in gioco sarebbe stata più alta perché avrebbe dovuto battersi per difendere la legittimità di sua figlia Maria e la sua posizione di erede al trono tratterò in maniera più estesa alcuni aspetti di questa vicenda nel video che dedicherò ad Anna Bolena per il momento non perdiamo di vista il ruolo di Caterina d'Aragona e la sua storia l'incontro con Anna Bolena e l'inizio del suo rapporto con lei grazie anche all'abile ritrosia della ragazza che rifiutava di concedersi al sovrano se prima non l'avesse sposata ma parleremo più approfonditamente di questo modo di fare prossimamente o unita alla promessa alla sua promessa di donargli il tanto sospirato erede maschio legittimo tutto questo ebbene spinse Enrico VIII a prendere in considerazione la strada del divorzio dalla moglie che a 40 anni poteva praticamente considerarsi vecchia e inadatta a procreare ma per tutta la sua vita Enrico VIII ebbe questa abitudine non tanto matura diciamo lui ebbe sempre questa tendenza a nascondere sempre le sue decisioni più importanti dietro il manto del volere di Dio e quando qualcosa non andava per il verso giusto o quando una sua decisione si rivelava fallimentare non se ne prese mai la responsabilità anzi scaricò sempre la colpa sugli altri e andò peggiorando con gli anni vedrete vedrete per autoconvincersi della necessità del divorzio da Caterina Enrico addusse come prova il famoso versetto del Levitico nell'Antico Testamento che condannava colui che prendeva in moglie la vedova del proprio fratello ad un'unione sterile ad Enrico VIII non bastò altro il suo matrimonio era colpevole agli occhi del Signore quindi divorziare era proprio un suo dovere spirituale e morale cioè proprio come dire no ma io non vorrei divorziare però è o sta scritto nella Bibbia quindi mi spiace devo divorziare naturalmente i suoi consiglieri e la sua corte formata per lo più da nobili compiacenti disposti a tutto anche a vendere le proprie madri pur di compiacere anzi disposti a vendere le proprie figlie occhiolino occhiolino quindi quindi la sua corte formata per lo più da nobili compiacenti disposti a tutto pur di compiacere il sovrano e ottenerne i favori bene si misero tutti quanti all'opera per consentire che ciò avvenisse e il compito più gravoso venne affidato al cardinale Wolsey lord cancelliere del reame della sua figura ne parleremo in maniera molto più approfondita nel video su Anna che immagino che a questo punto il video su Anna durerà due ore come minimo vabbè vedremo allora lì cosa avevano in mente di fare l'idea era quella di fare richiesta al papa di concedere il divorzio al re ma proprio in quel tempo malauratamente guarda caso Carlo V di Spagna calò su Roma mettendola a ferro e fuoco e prendendo in ostaggio il papa che si ritrovò quindi con le mani legate essendo prigioniero del nipote di Caterina d'Aragona non gli sarebbe convenuto fare in modo che venisse messa da parte in favore di una ragazza che senza titoli validi per aspirare a rimpiazzarla sul trono non potendo agire in prima persona il papa mandò un suo emissario il cardinal Campeggi che avrebbe presiduto ad un processo che avrebbe avuto il fine ultimo di vagliare i vari motivi a favore dell'annullamento e decidere se concederlo o meno unanimamente si dava per scontato che tutto si sarebbe risolto a favore del re e forse Enrico VIII stesso ne era straconvinto per tutti la faccenda era un falso problema si sarebbe giunti alla conclusione che il matrimonio tra i re e la regina non era valido avrebbero convinto la regina ad accettare il divorzio a ritirarsi in un convento e il re avrebbe potuto tranquillamente risposarsi ma non avevano tenuto conto di un dettaglio importante Caterina come disse lei stessa non era nata per il convento ma per la corona e il trono si dimostrò quindi di nuovo degna figlia di sua madre la regina guerriera Isabella di Castiglia e rifiutò senza mezzi termini la sua compartecipazione al divorzio mettendo quindi il marito e i suoi consiglieri e gli emissari papali in una situazione di stallo destinata a durare per quasi sei anni mutando l'amore che Enrico aveva provato per lei in esasperazione per poi finire in odio puro la mossa vincente della regina avvenne durante la seduta del 21 giugno del 1529 dopo che Enrico VIII ebbe esposto i dubbi morali che lo spingevano a quella decisione Caterina si alzò dal suo seggio posto di fronte a quello del re e si gettò ai piedi del marito il discorso che tenne la consegnò definitivamente alla storia e le feci guadagnare il sostegno di tutto il popolo inglese ve lo voglio andare a leggere stesso nel romanzo il re e il suo giullare il suo giullare Margaret George di Margaret George che comunque è come vi ho già detto nel video introduttivo a questa miniserie è un romanzo molto attento alle fonti storiche quindi qui il discorso viene riportato praticamente integralmente vi vado a leggere giusto le parti che ci interessano ecco qua vi leggerò solo le parti del discorso di Caterina senza gli intermezzi Sire vi supplico per tutto l'amore che c'è stato tra noi fate che io abbia giustizia abbiate pietà e compassione di me perché sono una povera donna una straniera nata fuori di questo regno mi appello a voi quale capo della giustizia di questo reame prendo a testimoni Dio e tutto il mondo sono stata per voi una moglie fedele umile e obbediente mi sono sempre conformata alla vostra volontà e al vostro piacere ho amato tutti coloro che voi amavate e solo per amor vostro anche se non erano miei nemici anche se erano miei nemici in questi ultimi vent'anni sono stata la vostra consorte fedele e da me avete avuto molti figli anche se a Dio è piaciuto di toglierli da questo mondo e quando mi aveste per la prima volta chiamo Dio a mio giudice che ero vergine e mai toccata da un uomo se questo sia vero o no lo chiedo alla vostra coscienza così facendo Caterina smascherò gli inganni politici impliciti ed espliciti in quel processo mettendo il re davanti al fatto compiuto e mostrandosi come il perfetto esempio della moglie devota e cristiana e questo Enrico non glielo perdono mai perché con quel discorso lei lo aveva messo praticamente alla berlina lo aveva umiliato di fronte a tutti da allora per lui lei sarebbe stata una nemica da distruggere e nient'altro il punto più spinoso della questione della grande questione come è stata chiamata dagli storici fu sicuramente il riferimento di Caterina alla sua verginità al tempo del loro matrimonio il tema su cui maggiormente si dibatteva in quel processo dal suo principio erano stati sentiti testimoni su testimoni che dopo quasi 30 anni siamo quasi 24 vabbè siamo lì praticamente dopo tutti quegli anni quasi 30 anni di silenzio riferivano che il matrimonio tra Caterina e Arturo era stato consumato prove concrete non ce n'erano e dopo tutti quegli anni sarebbe stato anche impossibile trovarne e le testimonianze si basavano unicamente su voci di corridoio e storie create per favorire la causa del re erano nate proprio in quel tempo dimenticando che già all'epoca del matrimonio tra Enrico e Caterina erano stati vagliati gli aspetti della consumazione del primo matrimonio di Caterina con il giovane Arturo non trovando nulla che impedisse l'unione tra lei ed Enrico adesso saltavano fuori testimoni che pretendevano di aver sentito Arturo il giorno dopo la prima notte nuziale dire ai suoi valletti di camera portatemi del vino sono assetato stanotte sono stato in terra spagnola che si capisce l'allusione e vari altri aneddoti scollacciati ed erano passati molti anni quasi non erano passati trent'anni però già stavamo lì più o meno da quella notte come mai quindi queste cose non sono saltate se queste se queste sparate di Arturo erano così conosciute come mai non erano saltate fuori all'epoca in cui si vagliava la possibilità del matrimonio tra Enrico e Caterina mistero della fede ma sentire Caterina che dichiarava a gran voce la sua verginità al momento del suo secondo matrimonio non poteva lasciare indifferente nessuno considerando poi che era rinomata in tutto il regno per la sua onestà e poi attenzione attenzione Enrico VIII non smentì mai pubblicamente quanto affermato da Caterina cioè non disse mai apertamente che la moglie non era vergine quando quando la la conobbe carnalmente ma questo perché per lui quello che contava non era il fatto che Caterina fosse o non fosse vergine quando l'aveva presa in moglie ma che semplicemente sposando la vedova di suo fratello aveva commesso peccato di fronte a Dio la consumazione non c'entrava nulla era la precedente unione matrimoniale con Arturo il vero problema per Enrico capendo che quel processo non era imparziale con lei Caterina rifiutò di parteciparvi e se moralmente la vittoria fu sua fu sua giuridicamente venne sconfitta il processo andò avanti ma data la ferrea negazione della seconda parte in causa e ovvero Caterina e la delicatezza della questione non si giunse a nulla di concreto l'unica possibilità era portare la questione direttamente a Roma e far decidere al Papa sempre prigioniero di Carlo V questo avrebbe significato ulteriore tempo in cui Enrico si sarebbe trovato impossibilitato a contrarre matrimonio con Anna Bolena che continuava intanto a sventolargli davanti la possibilità di avere un erede maschio da lei manco gli stesse sventolando davanti agli occhi un'ecografia ma vabbè ok e in più mettere la questione in mano al Papa in quella determinata situazione politica avrebbe senza un bel dubbio segnato la sconfitta di Enrico VIII si giunse così alla decisione drastica che avrebbe cambiato le sorti dell'Inghilterra per sempre per interesse personale ma anche per vari motivi economici si giunse alla separazione della chiesa d'Inghilterra da quella di Roma e la designazione del re come capo supremo della chiesa d'Inghilterra con un avvicinamento di quest'ultima alla corrente protestante o luterana come dirsi voglia già questa veicolata anche da apertamente da Anna Bolena e dai nuovi consiglieri di Enrico che a mano a mano stavano emergendo tra i quali Thomas Cromwell e la risoluzione di questa questione assunse caratteri ancora più evidenti quando Anna Bolena nel 1533 annunciò di essere incinta forse dell'erede maschio che aveva promesso ad Enrico ottenuto l'annullamento da parte del nuovo arcivescovo di Canterbury il luterano Thomas Crammer Enrico sposò Anna pur essendosi già unito a lei in una cerimonia segreta e nel corso di quello stesso anno la fece incoronare nuova regina d'Inghilterra per Caterina il vero calvario era iniziato già due anni prima nel 1531 quando Enrico senza salutarla senza rivolgerle nemmeno una parola lasciò il castello di Windsor dove stavano soggiornando in quell'anno per andare con Anna Bolena al palazzo di Woodstock tra Enrico e Caterina non ci fu più nessuno scambio di messaggi che non fosse pieno di preghiere da parte di lei e di attacchi irosi da parte di lui a quel punto Caterina si ritrovò completamente sola e abbandonata la corte intera seguì Enrico VIII e con lei rimasero pochissime dame veramente fedeli e pochi servitori devoti tutti coloro che si rifiutarono di accettare le nuove riforme del re finirono sul patibolo mentre l'umanista Thomas Moore e il vescovo cattolico John Fisher venivano decapitati per essersi rifiutati di riconoscere Enrico come capo della chiesa d'Inghilterra Thomas Cromwell nuovo consigliere e braccio destro del re e l'arcivescovo Thomas Crammer entrambi protestanti salirono i gradini della scala sociale mentre altre nobili famiglie cattoliche come gli Howard ai quali Anna Bolena era imparentata per parte di madre si adeguarono tranquillamente al nuovo assetto politico e religioso del paese quelli che sarebbero stati gli ultimi anni di vita di Caterina vennero passati da lei nella miseria più totale quasi come se fosse ritornata indietro di 30 anni all'epoca in cui si era ritrovata come una povera principessa nella torre dopo la sua vedovanza e poco prima del suo fidanzamento con Enrico privata del titolo di regina che le aspettava e costretta ad assumere quello di principessa vedova esiliata nel castello di Kimbolton umiliata e oltraggiata da coloro che solo pochi anni prima la onoravano in quanto legittima sovrana di Inghilterra vessata dal marito che lei continuava ad amare nonostante tutto e vessata dalla donna che l'aveva soppiantata che le portarono via tutti i suoi averi anche i gioielli che aveva portato con sé a suo tempo dalla Spagna e che erano quindi una sua proprietà personale anche quelli le vennero portati via da Enrico e Anna non le venne risparmiato nulla il dolore più grande però che le venne inferto fu quello di essere separata da sua figlia Maria la quale pure subiva continue umiliazioni da parte della matrigna Enrico fece ventilare a Caterina la possibilità di riunirsi alla figlia a condizione che riconoscesse l'annullamento del loro matrimonio e la legittimità delle nuove nozze ma Caterina rifiutò sempre consapevole che ciò avrebbe comportato per sua figlia la perdita dei diritti che le spettavano in quanto figlia di re molti osservatori moderni poco comprensivi con Caterina e guarda caso tutti i forti sostenitori di Anna Volena hanno sempre rimproverato questo atteggiamento di Caterina che a loro dire era inutilmente orgoglioso e superbo secondo loro avrebbe potuto acconsentire ormai alle richieste dell'ormai ex marito e riunirsi con la figlia vivere in pace tranquilla e invece non lo fece quello che non capiscono queste persone con tutto il rispetto abbiate pazienza è che rinunciando a incontrarsi con sua figlia Caterina fece il più grande gesto d'amore materno per Maria rinunciando a rivederla le permise di mantenere viva una legale parvenza di legittimità che le avrebbe consentito in seguito di venire di nuovo legittimata dal padre e diventare legittima sovrana d'Inghilterra anni dopo Caterina fece il sacrificio più grande rinunciò a vedere sua figlia per consentirle di avere un futuro degno del suo status quindi non fu una decisione presa certo a cuore leggero eh abbiate pazienza l'unica consolazione per Caterina rimase l'eco lontana e silenziosa del popolo che odiava Anna Bolena e continuava ad amare lei e considerava lei ancora come la loro legittima sovrana ma questa era una ben magra consolazione se paragonata al dolore di venire maltrattata rinnegata e odiata dall'uomo che era stato suo marito per più di vent'anni e separata da sua figlia la sua unica gioia terrena dopo aver combattuto per tutta la vita la regina guerriera alla fine si lasciò cadere sconfitta i pezzi della sua armatura sparsi tutti attorno a lei e le armi con le quali si era difesa fino alla fine gettate in un angolo a mezzogiorno del 7 gennaio del 1536 pronunciando le parole in manus tua domine commendo spiritum meum nelle tue mani o signore affido il mio spirito Caterina d'Aragona morì aveva da un mese compiuto 50 anni subito si sparse la voce che fosse stata avvelenata su ordine del re e di Anna Bolena ma oggi possiamo ipotizzare con assoluta certezza che Caterina morì per un sarcoma al cuore ma probabilmente le condizioni e le tribolazioni alle quali fu condannata nei suoi ultimi anni dovevano aver influito non poco sul suo stato di salute c'è da dire quindi al di là dell'aspetto romanticamente tragico delle cause della sua morte che Caterina d'Aragona morì praticamente di dolore venne sepolta con la sobrietà dovuta ad una principessa nella cattedrale di Peterborough i pochi averi che l'erano rimasti furono presi da Enrico VIII che assieme ad Anna festeggiarono la morte della loro comune nemica vestendosi di giallo colore dell'allegria ma anche colore del lutto per gli spagnoli quel festeggiamento fu quindi un doppio sfregio alla memoria della donna che gli aveva fatti vergognare di fronte al mondo ma quella festa in cui Enrico e Anna si ballavano vestiti di giallo non sarebbe durata a lungo come neanche quella gioia cinque mesi dopo la morte di Caterina infatti Anna Bolena venne decapitata con l'accusa di adulterio e tradimento ma in realtà colpevole di non essere riuscita a dare al re un erede maschio e di non essere più amata neanche lei da Enrico proprio come Caterina ma di Anna Bolena e della sua storia della sua ascesa e della sua caduta parleremo nel prossimo video ed ora prima di chiudere cultura generale allora Caterina d'Aragona è assieme ad Anna Bolena una delle più famose delle SX e ultimamente complici varie riletture che hanno deromanticizzato la figura della sua eterna rivale Anna Bolena Caterina è stata oggetto di una rinnovata ammirazione popolare tanto che risulta essere nelle varie classifiche di gradimento chiamiamole pure così una delle più apprezzate se non la più apprezzata dal grande pubblico per la sua forza e la sua tenacia ma come vedremo presto anche le altre SX possono bantare una simile forza e tenacia sebbene in ambiti e modalità diverse c'è da dire che che Caterina fu sicuramente l'unica vera regina d'Inghilterra con lei che più di tutte le altre si comportò e visse come una regina dando prova di esserlo in tutti sia nel bene che nel male anche nelle avversità soprattutto perché a differenza delle cinque donne che le succedettero lei era stata educata per questo ruolo fin dall'infanzia e per tutta la vita dimostrò tutte le doti che servivano ad una regina il saper conquistare l'amore di un intero popolo che lei riuscì a conservare fino al suo ultimo giorno di vita e la diplomazia e la forza necessarie per sopravvivere ai giochi e agli intrighi di potere che pure la videro coinvolta in prima persona fu una condottiera sul campo di battaglia contro gli scozzesi e fu una combattente anche nella sua lotta finale per il suo titolo di legittima moglie del re e solo la malattia alla fine riuscì a piegarla altrimenti avrebbe combattuto per sempre nel mondo della letteratura Caterina compare ovviamente come personaggio principale nel romanzo di Margaret George il re e il suo giullare come vi ho anche mostrato in maniera molto oculata e molto attenta ed è protagonista del romanzo Caterina d'Aragona di Alison Weir primo romanzo della saga delle sei mogli scritta dalla storica inglese che di recente sta venendo stampata anche qui in Italia siamo ormai al terzo volume quello su Jane Seymour quest'anno dovrebbe uscire quello il quarto su Anna Di Cleve beh speriamo io ancora devo iniziare a leggerlo ancora non ho letto quindi il romanzo su Caterina d'Aragona però diciamo alcune persone che l'hanno letto mi hanno confermato che è un bel romanzo e Caterina d'Aragona è trattata e tratteggiata in maniera molto bella quindi io sinceramente sono curioso di iniziare a leggere questa saga probabilmente appena mi troverò appena riuscirò a ritagliarmi un po' di spazio tra le varie letture che sto affrontando in questo periodo mi deciderò almeno ad iniziarla ok e sempre per parlare dei romanzi ok via il dente via il dolore il bello che mi fa anche male i denti accidenti c'è c'è questo Caterina la 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 prima moglie di Filippa Gregory che posso dire di questo romanzo ecco ha ecco ha 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 una una bella copertina non trovate? non penso di poter dire altro sinceramente no veramente ragazzi questo romanzo è formato da un 50% di una storia interessante anzi no da un 40% di storia interessante e un 60% di inutilità totale ecco diciamo che in questo romanzo Filippa Gregory ipotizza che Caterina avrebbe consumato il suo matrimonio con Arturo anzi tra i due sarebbe addirittura scoppiato l'amore però poi vabbè Caterina allora avrebbe promesso ad Arturo sul letto di morte che sarebbe comunque diventata regina d'Inghilterra e per farlo quindi avrebbe mentito sul fatto che non si sarebbe che la loro unione non sarebbe stata consumata eccetera eccetera vabbè tanti pipponi mentali tante lucubrazioni svolte scelte di trama decisamente assurde soprattutto per quanto riguarda il rapporto con Enrico e quant'altro specialmente sul finale con Caterina che dice no ma tanto Enrico non affermerà mai che non ero vergine al tempo del nostro matrimonio perché non metterebbe a rischio la sua dignità ma te c'è voleva liberarsi di te cavolo se sapeva che non eri vergine hai voglia ci andava a nozze col fatto che davvero non eri vergine frega cavoli che il fatto che la sua dignità e quant'altro vabbè Filippa Gregory è una di quelli autrici che quando scrivono si capisce lei da sola ok bene niente non ho più non voglio dire niente se penso che devo ancora avere a che fare con lei per i prossimi video io mi sento male veramente non ce la posso fare ok bene passiamo a livello del cinema e della televisione ebbene Caterina è l'unica delle sei mogli a non comparire nel film del 1933 Enrico VIII e le sue sei mogli viene solo lievemente nominata nei titoli introduttivi a inizio film e nel corso della pellicola viene una sola volta fatto cenno a lei e viene in quest'unica occasione viene definita perfida non si capisce per niente come mai però come dico sempre questo film del 1933 Enrico VIII e le sue sei mogli è un gran bel film è bello è divertente soprattutto ve lo consiglio al di là di tutto bene poi spostandoci sul versante del sempre rimanendo in tema del cinema è stata interpretata dall'attrice spagnola Anna Torrent nel film L'altra donna del re del 2008 film ispirato all'omonimo romanzo di Filippa Gregory e nella serie tv i Tudors è stata interpretata in maniera magistrale a mio modesto parere da Maria Doyle Kennedy bravissima veramente ragazzi nulla da dire chapeau vabbè che la la maggior parte degli attori lì sono stati veramente eccezionali nella costruzione dei personaggi nulla da dire proprio alzo le mani le interpretazioni eccellenti costruzioni dei personaggi ottime quindi nulla da dire anche se devo dire per quanto riguarda Maria Doyle Kennedy come Caterina D'Aragona nei Tudors ma che diamine l'hanno invecchiata una cifra in quella serie tv ragazzi Enrico e Caterina avevano Caterina aveva 7 anni più di Enrico non è che ne aveva 15 più di lui vabbè hanno un po' esagerato hanno preso la lettera il fatto che lei era più vecchia di lui vabbè lasciamo stare ok quindi e per rimanere in ambito serie tv è recente anche la serie tv The Spanish Princess anche questa è ispirata ai romanzi della Gregory ispirato mi pare anche a proprio a Caterina la prima moglie ad altri romanzi però io non l'ho visto ancora questa serie tv sono un po' in urto ultimamente con tutto ciò che riguarda Filippa Gregory probabilmente la recupererò in seguito anche perché sono curioso di vedere Georgie come si chiama l'attrice che faceva Lucy Pevency nei film delle cronache di Narnia che in questa serie tv interpreta Margaret la sorella minore di Enrico VIII che poi diventò regina di Scozia ecco no sarei curioso di vedere lei come se la cava poi vabbè forse potrei dargli una possibilità in futuro non lo so ragazzi ho notato che di solito queste serie tv ispirate ai romanzi di Filippa Gregory risultano migliori della loro controparte cartacea è successo così con The White Queen è successo lo stesso con The White Princess magari anche con The Spanish Princess potrebbe essere la stessa potrebbe essere potrebbe uscire un buon prodotto però mi devo trovare nel modo ideale per recuperarla e qui in questa serie viene raccontata la gioventù appunto di Caterina che qui viene interpretata da Charlotte Hope nota al grande pubblico per aver interpretato in Game of Thrones Miranda l'amante di Ramsay Bolton quella che fa un capitombolo fa un volo dalla balconata ok si vabbè fa una di quelli che fanno la finaccia ok tutti fanno una finaccia in Game of Thrones ma vabbè e infine vorrei accennare alla presenza di Caterina nella serie tv spagnola Isabel serie storica accuratissima e soprattutto consigliatissima su Isabella di Spagna Caterina qui ci viene mostrata sul finale della serie con le sue vicende inglesi tra il matrimonio con Arturo la scusate la vedovanza e l'avvicinamento con il piccolo Enrico qui è interpretata da Natalia Rodriguez ed eccezionalmente è bionda sì per la prima volta ho potuto vedere una Caterina d'Aragona bionda perché lei era bionda ecco detto e chiudiamo con il musical Six un po' la colonna portante di questa miniserie ebbene in questo musical Caterina si racconta attraverso la canzone No Way una canzone molto ghetto style va detto in cui lei afferma che in soldoni che non accetterà mai il divorzio da Enrico praticamente no 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 way there's no way ok ci ho messo anche il gesto afro perché ci stava vabbè ve lo consiglio sempre la canzone casomai la canzone ve la lascio linkata qua nel pallino magico assieme ad altri video che vi avrò sicuramente magari che vi lascerò sempre qui per se volete avere qualche approfondimento ulteriore su determinati aspetti di questa vicenda storica ok bene io penso di poter concludere qui il video spero che vi sia piaciuta questa prima lezione questo racconto su di su Caterina d'Aragona e lasciatemi un like se così è stato commentate ditemi la vostra su cosa ne pensate di Caterina d'Aragona su come la trovate su cosa pensate di lei su se la trovate se se vi piace se non vi piace ditemi voi sono molto curioso di conoscere la vostra opinione in merito a tutte quante le varie six bene iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video mettete mi piace alla mia pagina facebook seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e alla prossima video lezione in cui parleremo di Anna Bolena prepariamoci perché sicuramente me lo sento il video su Anna Bolena sarà il più lungo in assoluto come questa impressione guardate io me lo sento ok vabbè stiamo a vedere poi vediamo io scrivo gli script poi il minutaggio non lo considero vediamo un po' come va a finire vabbè dal vostro professor Lusio è tutto e ciao ciao